Il secondo appuntamento di Aspettando Santa Maria 2023, il primo è stato un grande successo che ha riempito la piazza, che cosa ci aspetta questa sera con l'unione di quattro corali che canteranno insieme? Beh, devo dire che questa è stata un'idea di Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Giuliano e noi l'abbiamo raccolta subito al volo tracciando anche un po' quello che è il percorso che vogliamo dare alle feste, al Comitato Feste nelle sue scelte per questa ricorrenza, per questo triduo di agosto in onore di Santa Maria Patrona. Riassumiamo tutto con una parola che è condivisione, condivisione appunto fra istituzioni, tra enti, condivisione tra le varie associazioni locali, le abbiamo vissuto proprio sabato questa esperienza di piazza e condivisione anche con il territorio circostante, quindi la festa di Santa Maria, la festa della città di Lucera vuole essere in qualche modo anche un po' la festa della nostra diocesi e quale miglior modo per festeggiarla in condivisione se non iniziando proprio dalle quattro corali di questa diocesi, Lucera, Troia, Biccari e Faeto, quindi sarà davvero un momento di festa, di condivisione, di gioia. Il calendario di Aspettando Santa Maria prosegue? Se può anticiparci qualcosa? Beh, stiamo davvero cercando di ottimizzare tutti i vari aspetti, gli ingredienti di una festa sono quelli, non dobbiamo inventarci niente se non cercare di appassionarci ancora di più alla devozione mariana, ma cercheremo davvero di ottimizzarle al meglio e di approfondire il discorso in ogni settore, quindi davvero sarà una festa esplosiva e frizzante. Grazie a tutti. Eccellenza, questa sera siamo qui per un evento straordinario, si riuniscono quattro corali del territorio della diocesi. Il presidente del Comitato Feste ci ha tenuto a sottolineare che l'idea della condivisione è stata un'idea presa da lei. Che significato ha questa serata? Intanto diciamo così che questa stasera questo convergere di quattro cori, io spero che la prossima occasione ne vedrà anche qualche altro della diocesi, a mio avviso è una specie di miracolo, di miracolo di comunione e di incontro, perché noi non possiamo parlare di comunione se non parliamo di incontro tra le persone, tra i gruppi. L'incontro tra i gruppi canori, molto a mio avviso, molto qualificati che ci sono nella nostra diocesi, è veramente una bella realtà. Ho incestito, sto incestendo anni per questa cosa, quest'anno finalmente si riesce a realizzare e complimenti a chi ha accolto il significato profondo di questa idea. Eccellenza, come pensa che i fedeli debbano quest'anno aspettare Santa Maria? Ma io direi intanto aspettare con la preghiera, perché è una festa religiosa, ma è anche con l'incontro, con l'incontro festoso, oltre che festivo. Festoso significa imparare a guardarsi con un simpatia, imparare a superare i pregiudizi, imparare a superare i sospetti, qua nessuno ci vuole male, ma ci vogliamo tutti quanti bene. Certo, nel rispetto della identità di ciascuno e anche del compito di ciascuno.